Tutti in piazza a protestare, ombrellone in mano. E' la protesta che sarà messa in atto dai Balneari martedì 27 novembre in piazza Santoronzo a Lecce. Una manifestazione organizzata da Feder Balneari, il sindacato che rappresenta oltre 200 imprese balneari pugliesi e che ha l'obiettivo di chiedere l'immediata sospensione di tutti quei provvedimenti amministrativi di diniego al mantenimento annuale delle strutture funzionali all'attività di stabilimento balneare. Nel Salento, ricorda il presidente Mauro della Valle, la totalità delle strutture balneari facilmente amovibili presenti nel territorio salentino sono dotate di un permesso di costruire avente validità stagionale, in quanto la locale soprintendenza di Lecce ha rilasciato un'autorizzazione paesaggistica che permette il mantenimento delle strutture dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno, con l'obbligo di rimozione per il restante periodo. Da circa un anno, dal 27 ottobre 2014, presso la prefettura di Lecce, per iniziativa dello stesso prefetto, è presente un tavolo tecnico per esaminare l'individuazione di una griglia di prescrizioni al fine di consentire un equilibrio paesaggistico con il mantenimento delle strutture balneari. Da qui, conclude Della Valle, la manifesta latitanza della soprintendenza di Lecce a partecipare a suddetti incontri, più volte convocati dallo stesso prefetto, generando preoccupazione a tutto il comparto balneare pugliese, che dal 1 novembre diventerebbe fuori legge.